proseguiamo la carrellata di prodotti da bar con il modello challenge indoor che io definirei il fratello minore del maracanà non ha nulla di inferiore ma semplicemente è nato dopo è sempre un prodotto con un mobile da 3 centimetri quindi struttura estremamente robusta stessa tipologia di aste o mini mono fusione piede quadro tipico dei prodotti da bar ovviamente gettoniera inclusa settabile a 50 centesimi oppure ad un euro piano giochi in vetro angoli rialzati a 4 centimetri ciao a tutti grazie per aver visto il video e ci vedremo nella prossima presentazione